Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono code in uscita a Firenze Scandicci e Firenze Sud, provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1 e code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Rallentamenti al termine del raccordo Siena-Firenze in direzione dell'allacciamento per la A1. Sulla statale un'aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Venturina e Rio Torto in direzione Roma, chiuso lo svincolo di Venturina. A Firenze ci sono rallentamenti per traffico intenso sui viali e sul viadotto dell'Indiano. Per i lavori alla linea 3 della tramvia, dalle 9 alle 20 per asfaltatura chiusa via Pisacane da via Palazzo Bruciato a via Tavanti. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!